Una riflessione sulla piaga della violenza sulle donne a partire dal pensiero degli studenti seguendo un approccio che mette al centro del discorso la prospettiva dei più giovani. L'incontro che si è svolto in prefettura a Pescara ha ribaltato il consueto ordine degli interventi non dall'autorità ai ragazzi ma dai ragazzi alle istituzioni per impostare con loro un dialogo partecipativo che tocchi tutti gli aspetti dell'emergenza sociale. Un'iniziativa che mira in realtà a cambiare la solita prospettiva che abbiamo nei rapporti con gli studenti e con i giovani cioè non siamo noi che diamo indicazioni, illustriamo iniziativa ai giovani ma abbiamo chiesto a loro di manifestare il loro pensiero su quest'argomento. Perché il sol pensiero che il 31,9% delle donne a livello mondiale subiscono violenza è un qualcosa che mi colpisce proprio a livello umano ma anche come uomo. L'evento rientra tra le iniziative promosse dal tavolo operativo per il contrasto alla violenza di genere attivato dalla prefettura di Pescara, esposte e proiettati i lavori realizzati dagli studenti per l'occasione.